Se da sempre, quando si parla di mercati, c'è un unico vero grande protagonista, gli Stati Uniti, da qualche anno si è giunto un coprotagonista, che, tra le altre cose, come un'ottima trama richiede, è l'antagonista, la Cina. La domanda che mi voglio fare oggi è, è vero che è iniziata la fine della Cina? È vero che si può definire l'economia cinese in recessione, che cosa comporta questa cosa qua? Ma, oltre a questo grande tema che affrontiamo insieme, ho altri temi. Trading senza commissioni, sì come no, tre step per sfidare la fortuna, perché le persone prendono decisioni stupide volontariamente, la narrativa segue sempre il prezzo dei mercati, il mercato odia l'incertezza, quattro lezioni di investimento dal poker e grandi credenze alla fine, una roba eccezionale. Benvenuti a tutti, signori, in questo nuovo video. Io sono Francesco Buzzi, insegno come guadagnare i suoi mercati senza diventarne schiavi, e questo è l'appuntamento settimanale chiamato Bazz Editoriale. Ogni settimana ci fermiamo un attimino e cerchiamo di raccogliere news, articoli, approfondimenti, opinioni, analisi della settimana sui mercati per cercare di separare il segnale dal rumore. All'epoca odierna, con internet, la quantità di informazioni che ci arrivano in giorno è epocale, epocale. Fatto 100 le informazioni in input, una, due, tre forse sono veramente utili e provocano delle conseguenze importanti. Nel nostro campo, investimenti trading, vuol dire aumentare i soldi, vuol dire migliorare le nostre strategie. Questo è il segnale e il rumore bisogna riconoscerlo, separarlo, allontanarlo, perché ci confonde e basta. E con questo Bazz Editoriale ci provo da ormai quasi due anni, se non vado errato. Direi di non perdere altro tempo, iniziamo subito dopo la sigla. Come al solito ti ricordo che in descrizione c'è l'articolo sul mio sito, con tutti i link. Ti invito caldamente a leggere, ad approfondire, non star lì passivamente ad ascoltare e basta. È un'ottima cosa, ma poi approfondisci. Riguardo la Cina, parliamo della Cina, ci sono alcuni articoli interessanti, mi sono preso anche degli appunti perché non voglio dimenticarmi assolutamente niente. L'articolo da cui sono partito è di Noa Opinion, che parla della Cina in recessione. La parte iniziale è quella che introduce tutto il discorso, cioè la Cina ha sempre truccato i propri dati economici. Anche dopo il disastro di Piazza Tiananmen, anche dopo il disastro delle economie esiatiche del 97, anche dopo il disastro del 2008, l'economia cinese sembra che non abbia mai, mai, mai vissuto un momento di recessione. Questo e altri elementi hanno chiarito agli economisti che effettivamente l'economia cinese è un po' pumpata, è un po' truccata. Soprattutto quando è in recessione, ovviamente, soprattutto quando rischia la recessione. Ultimamente la crescita cinese è stata segnalata come in leggera flessione, quindi teoricamente continua a crescere, ma ha una velocità minore di quella che si è segnalata da tre decenni a questa parte, quindi comunque la Cina dice noi comunque cresciamo, la realtà è che ci sono dei dubbi, a partire da vendite al dettaglio e produzione industriale che dicono che lo scenario è peggiore di quello che dice la Cina. Cioè non è solo un rallentamento del PIL temporale, è un rallentamento della crescita. E qua ci si pone la domanda, ok, ma quindi dov'è la verità? Beh, la verità è un indizio, ce la dà direttamente il governo cinese, perché si muove come se effettivamente fosse in recessione. Ha improvvisamente la Bank of China tagliato i tassi di interesse, cosa che si fa in recessione o comunque in una situazione economica molto preoccupante, e il governo sta aumentando il suo deficit di bilancio. Quindi non lo dice, però ci sono tanti indizi che segnalano un'economia cinese in grande, grandissima difficoltà. Queste piccole mosse non cambieranno realmente la situazione macroeconomica, mi sono scritto, ma forniscono una conferma indipendente che il governo è profondamente preoccupato. Ciò che in particolare blocca la ripresa, perché verso la fine della parte gratuita di questo articolo, se non vado errato, sì, c'è la previsione, il forecast da Goldman Sachs, della seconda metà del 2022 e del 2023. C'è da dire che vari analisti stanno individuando due enormi problemi alla ripresa della Cina, due enormi problemi che rischiano di influenzare tutto. E qua andiamo un pochettino più nel dettaglio. Il primo è la politica anti-Covid, e il secondo è la crisi del mercato immobiliare. Passiamo appunto al mercato immobiliare. Non si è mai la Cina ripresa dalla crisi del debito del mercato immobiliare. Vi ricordate, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, è tutto iniziato quando Evergrande, chissà se poi si pronuncia così, la più grande azienda immobiliare cinese, ha iniziato a non riuscire più a ripagare i suoi debiti, ed è il più grande attore per debito. E da lì si è scoperto un po' come funzionava, cioè funzionava tutto col debito, e le aziende continuavano a costruire, costruire, costruire senza mai pagare. Si ritiene che le misure del governo non siano abbastanza impattanti. Quello che dice questo articolo è che la Cina ha previsto un 130, no, qua, ha previsto un 44 miliardi per l'aiuto all'economia. In realtà, gli investitori stanno segnalando una perdita di 130 miliardi dalle obbligazioni denominate in dollari, quindi c'è parecchia, parecchia preoccupazione. Riteniamo ancora che le insolvenze continueranno per il resto del 2022, in particolare per gli sviluppatori con grandi scadenze del debito offshore e vendite deboli. I gruppi immobiliari cinesi hanno mancato i pagamenti per un valore record di 31,4 miliardi in obbligazioni in dollari nel 2022. I dati ufficiali mostrano che le vendite di case in Cina sono diminuite di quasi il 30% dalla prima metà dell'anno. Quindi, il mercato immobiliare è ancora particolarmente in crisi e non si sa come farlo riprendere. Cina sta provando a muoversi, ha investito 44 miliardi, che sono 300 miliardi di RMB, di sostegno alla credito da parte delle istituzioni controllate dallo Stato, utilizzate da Pechino per simulare crescita economica, secondo un annuncio. Ma la priorità di Xi, in realtà, non è migliorare appunto l'economia, è la strategia anti-Covid. Quindi dicono, sì, 44 miliardi, ma a parte che 44 miliardi non sono utili. E infatti lo dicono, ci sono articoli che lo dicono, chiaramente. Ma poi sembra che nel momento in cui tu dai 44 miliardi all'economia, ma la soffochi mettendo in quarantena forzata, quarantena che non abbiamo mai visto noi in intere città, in intere regioni, di come è successo e come sta continuando a succedere, è un problema. Perché da una parte, sì, hai una mancetta, 44 miliardi in un'economia come quella cinese, non è neanche granché, ma dall'altra soffochi l'economia. E il problema qual è? Il problema della Cina è che c'è una persona che decide, cioè Xi. Xi, Xi Jinping, ha investito tutto il suo capitale politico nella strategia anti-Covid. E essendo lui l'unico governatore, è un dittatore, ragazzi, bisogna parlare molto esplicitamente, molto chiaro, non può a quel punto. Uno, nessuno gli può dire, no, fai il contrario. Due, o cambia idea lui, o è finita. E invece lui ha questa idea dello zero Covid che paralizza parecchio l'economia. Tale sostegno non riesce ancora a colmare il divario fiscale per i governi locali che devono pagare tutte le conseguenze della strategia zero Covid. Molti analisti sono rimasti preoccupati per i profondi rischi strutturali posti da un tracollo del settore immobiliare cinese. Il rifiuto di Xi di abbandonare le sue controverse politiche zero Covid ha indebolito la fiducia dei consumatori e smorzato ai settori dei servizi più produttivi. E questo è un problema. Pichino ha fissato i suoi obiettivi di crescita più bassi da tre decenni, e questo l'avevano detto, più di 200 società. E questo è come si riflette sui mercati finanziari? Beh, si riflette che, uno, abbiamo la certezza che l'economia cinese è in profonda difficoltà, più di quanto dica, e vari settori stanno soffrendo le pene peggiori, e che è difficile ci possa essere un grande smottamento proprio per la catena di comando. Cioè, Xi, è quello che dice Xi, è legge. Due, noi sappiamo che il mercato finanziario cinese è profondamente più arretrato di quello statunitense, che è comunque il più evoluto rispetto a qualsiasi paese, per carità. C'è a dire che ci si sta impegnando. Sembra che stiano riuscendo a trovare un accordo per analizzare le aziende cinesi quotate negli Stati Uniti. Cioè, ci sono un tot di 200, se non sbaglio, aziende cinesi quotate negli Stati Uniti, ma le leggi statunitensi dicono che gli organi regolatori devono avere accesso ai bilanci, per evitare truffe, per evitare trucchi vari, eccetera, eccetera, che non sono sempre evitabili, ovviamente. Non è che gli Stati Uniti funzionano meglio, se no non sarebbe esistita la crisi del 2008. Però la legge è quella, e mi sembra abbastanza sensato. Cioè, se io devo investire in una società, mi dice che, faccio un esempio banale, guadagna 50 miliardi l'anno, poi in realtà sono 45, comunque è un'informazione sbagliata. Cioè, mi stai mentendo, e questo è un problema, perché sono i miei soldi. Sembra che stiano venendo abbastanza compromessi. Ovviamente la Cina fa così perché dice, no, perché poi mi spiate e prendete delle informazioni strategiche importanti. No, in realtà la Cina è che funziona così. È che funziona così. Se vuoi che gli investitori paghino, investano, credano nel tuo mercato, devi dare la più alta trasparenza possibile. Concettualmente non sempre possibile, ma a livello di trasparenza, i mercati europei e in generale, in lingua inglese, quindi la Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica, Inghilterra, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, hanno un livello di trasparenza molto migliore. Perfino l'Italia ha un livello di trasparenza molto migliore, perché da un punto di vista regolatorio, io, se voglio investire in, che ne so, Amplifon, devo avere accesso ai dati di Amplifon. È abbastanza normale, ed è per questo che dico che il mercato finanziario cinese è oscuro, è un po' arretrato, non ha i presupposti, i pilastri giusti per poter veramente spiccare il volo. È così. Quindi, la mia opinione in merito è... Io, sì, ho finito gli appunti, questi sono articoli molto interessanti che vi consiglio di leggere. La mia opinione in merito è ovviamente sempre quella. Io disincentivo chiunque a investire in Cina, io lo dico da anni, eh, senza alcun problema, non investire in Cina, non è necessario investire in Cina, cioè non funziona quella cosa lì. Attualmente, anche gli investitori più pro-Cina si stanno un po' tirando indietro, come Redaglio. Non c'è possibilità, tra l'altro, di fare trading, come sui mercati italiani o statunitensi, perché non si compra in realtà un'azione cinese, si compra un'azione cinese quotata, che ne so, non mi ricordo, in un altro stato è una scatola vuota in realtà, cioè tu non compri fisicamente un'azione come quando succede che compri un'Apple o compri un'Amplifon. Quindi, non ha senso a livello di investimento, a livello di trading, puntare sulla Cina. No, però la Cina fra vent'anni dominerà il mondo. Può essere, può essere. Ma tu, il profitto dei vent'anni che vedrai fra vent'anni lo devi mettere in piedi adesso. Quindi non ha senso questo discorso qui. Come non aveva senso vent'anni fa dire no, dobbiamo credere nel BRIC. Brasile, Russia, India e Cina, e poi si è aggiunto anche qualcosa al Messico, eccetera, eccetera. A me non sembra che abbiano fatto profitti maggiori dei mercati, come si suol dire sviluppati, che è un termine un po' grezzo, ma ci siamo capiti. Non funziona. No, va fra vent'anni la Russia, il Brasile e la Cina. Qual è il risultato? No, quindi evitiamo investimenti in Cina e studiamo comunque l'economia cinese perché è molto interessante e ci permette di capire meglio come funziona il mondo. Piccolo step su il trading a costo zero, articolo molto interessante da leggere. Io ho un'opinione su trading a costo zero che ha avuto la sua esplosione a metà del 2020 perché tutti si sono trovati a casa e soprattutto gli statunitensi con soldi che piovevano dal governo senza lavorare, cosa faccio, cosa non faccio investo. Investo come? Investo con Robinhood app che permette ancora di comprare azioni a costo zero. Il costo zero attira quel tipo di investitori lì. Quindi, ah, se io non pago neanche un dollaro per comprare un'azione, questo è l'affare della vita. Qual è il problema? È che è evidente che non esista una cosa, un servizio a costo zero. ma proprio da un punto di vista economico non funziona perché qualsiasi servizio ha un costo, ok? Quindi, tutte le persone che si sono rifiondate su Robinhood perché no a costo zero la finanza democratica lottiamo contro le mani forti poi alla fine, semplicemente quel servizio che non pagavano lo prendevano da dietro nel senso che Robinhood vende i dati vende i flussi di ordini a vari hedge fund le mani forti quindi basta usare un po' di cervello ogni tanto prendere un fatto c'è un fatto sì, il costo è zero perché il costo è zero? Che cosa non sto capendo? Da dove prendono questi soldi? Qual è la conseguenza di un fatto? O qual è la causa? Prendere me eccetera eccetera bisogna farsi un po' di domande non fare gli sciocchini ok? Articolo interessante di Novel Investor che confronta abilità con fortuna Michael Mabussin o come si pronuncia definisce le attività puramente basate sull'abilità come quelle in cui puoi perdere il proposito tipo gli scacchi ok? Per il resto è un po' come l'investimento cioè non è detto che tu puoi perdere volontariamente non è quella cosa che devi fare è un esercizio teorico l'ha fatto ha detto a un tot di persone di provare a investire nelle aziende peggiori e comunque non ci hanno preso abbastanza questo poi ci porta a fare tutta una discussione a me interessa mi interessano i tre punti alla fine bisogna investire nel lungo termine bisogna avere un processo di analisi dei dati al passato che non vuol dire riuscire a prevedere il futuro ma vuol dire avere un quadro di insieme ok? come dico sempre se io investo in Apple perché nei precedenti 20 anni ho fatto il 20% medio anno non vuol dire che l'anno prossimo faccia il 20% medio anno ma è più sensato che investire in un'azione che ha fatto il 3% all'anno per i successivi per i precedenti 20 anni sperando che l'anno prossimo improvvisamente inizia a fare il 20% all'anno quanto meno in termini di probabilità è meno è meno probabile ultimo serve un processo che limiti gli errori di comportamento che sono fondamentali che dopo approfondiamo con questo articolo di Morgan Housel cioè alcuni errori di comportamento bias cognitivi io compro solo azioni italiane perché penso che essendo italiane le conosco meglio io compro solo azioni di cui sento parlare perché che ne so io compro azioni che stanno perdendo perché penso che vengano premiate con il ritorno verso la media eccetera eccetera evitare le scelte comportamentali sbagliate perché le persone appunto torniamo sul discorso del comportamento perché le persone prendono decisioni finanziarie stupide apposta tu che cosa sceglieresti a sinistra premi il pulsante rosso e vinci un milione immediatamente ti arriva un milione sul conto in banca a destra hai il pulsante verde che dice hai il 50% di probabilità di vincere 50 milioni qual è la tua scelta? 99,9% delle persone che guardano questo video sceglieranno a sinistra qual è il problema? perché è importante capire la finanza comportamentale capire che il 90% dei risultati che otterrà dipende da questa cosa qua? perché matematicamente parlando è il verde il pulsante che devi premere punto cioè non c'è discussione ma qual è il problema? che del matematicamente parlando non ce ne frega niente non ce ne frega niente perché? perché io sono portato a dire ma che cacchio me ne frega dei 50 milioni se ho il 50% di possibilità di rimpianto perché potrei non vincere dico vabbè non ho neanche quel milione che avrei potuto vincere per forza io mi prendo il milione sicuro perché ciò che guida le nostre decisioni questa roba qua se i nostri valori se i nostri incentivi altra cosa dipende dal tuo punto di partenza cioè se hai 50 milioni allora per forza non per forza sarai più portato a premere il pulsante verde perché se ti va bene raddoppi il tuo capitale se ti va male hai comunque i 50 milioni aggiungere un milione in secco sicuramente è una cosa che ti farebbe piacere ma non è sto granché ok se hai 10.000 euro in conto in banca allora premerai per forza il pulsante rosso questa è una teoria che ha Bernoulli che aveva creato Bernoulli tot tempo fa e che è stata migliorata da Daniel Kahneman con la sua prospect theory sulla percezione del rischio sul rimpianto su come si effettuano le scelte ed è molto molto interessante ve lo lascio in realtà approfondire qua faceva l'esempio Ben Carson rispetto a un rifinanziamento di un mutuo le risposte che otteneva non facciamo riferimento ai tassi di interesse alla situazione finanziaria all'economia no no facciamo riferimento scrittimamente al valore singolo personale che dà la casa la casa è il tetto sulla testa e quindi è un valore maggiore di un semplice calcolo matematico ed è giusto così cioè è inutile dire no ma matematicamente è sbagliato ma il nostro cervello non funziona così ok quindi tenere sempre a mente questo discorso la narrazione guida ai prezzi è un altro articolo molto interessante che si può spiegare con questo video brevemente perché siamo già arrivati a una ventina di minuti voglio tenere un filo corto il video cosa succede se tu guardi un prestigiatore un mago lanciare una pallina rossa dalla sua mano in verticale la prima volta la seconda volta la terza volta questo ragazzo ha fatto un esperimento questo ragazzo Kuhn che non è il ragazzo l'oggetto dell'articolo è Gustav Kuhn ha fatto questo esperimento la realtà è che la terza volta non l'aveva lanciata e nessuno se ne era accorto perché? perché tutte le persone non guardavano la pallina guardavano gli occhi e cosa più importante in realtà non agivano su quello che vedevano agivano proiettando le loro aspettative uno due cosa deve succedere se non altra è che succeda la stessa identica cosa ok? perché succede questa cosa qua? perché ci rende più facile la vita noi non analizziamo guardando un semaforo rosso quali sono le probabilità che arrivi il verde potrebbe rompersi oppure potrebbe esserci un malfunzionamento ogni quanto no noi automaticamente proiettiamo il fatto che dopo il verde dopo il rosso scatta il verde punto è il nostro pensiero veloce funziona così e i mercati funzionano così appena scendono un po' si moltiplicano gli articoli di giornale le opinioni gli interessi le vendite di azioni perché è la narrativa che domina poi risalgono i prezzi e c'è sfiducia c'è speranza c'è investimento eccetera eccetera questo articolo propone un grafico molto interessante sui titoli di Ben Carson e del suo podcast comparati con l'andamento dell'SP500 titoli più pessimisti in un mercato ribassista titoli più ottimisti in un mercato rialzista è così è la narrativa il mercato odia l'incertezza qua sostanzialmente fa riferimento alle elezioni di metà mandato che non importa chi ci sia importa che abbia la possibilità di essere rieletto più facilmente ed è assolutamente vero è un articolo interessante che vi lascio leggere questo articolo interessante su spunti di un pokerista su come investire anche qua non mi interessa granché approfondirlo leggetelo è molto interessante il poker è assolutamente correlato al trading c'è la percezione dei rischi c'è le scelte c'è i propri valori c'è il rimpianto di una perdita di un guadagno eccetera eccetera in ultima analisi c'è questo articolo di Morgan Housel che non so se lo sapete ma Morgan Housel è assolutamente una persona da leggere nella mia top 3 di libri fondamentali per vivere bene e guadagnare è Psicologia dei soldi di Morgan Housel non volete comprare un libro? bene allora andate su collaborativefund.com Morgan Housel c'ha boh 100 articoli che vi potete leggere che sono essenziali lui cosa dice? lui dice che abbiamo noi agiamo sulle credenze in realtà cioè abbiamo tutta una serie di cose che funzionano e che ci permettono di capire meglio il mondo ad esempio non puoi prevedere il futuro ad esempio richiede meno sforzo migliorare la propria confidence la propria fiducia in se stessi che la propria abilità questo è la credenza più importante in assoluto questa è la credenza che mi non so se vi siete mai non so se siete mai incappati in quel senso di meraviglia avete mai studiato qualcosa o ascoltato una canzone o guardato un video un film una serie tv e dire wow questa cosa mi fa esplodere il cervello è fantastica d'ora in poi la mia vita cambierà non sostanzialmente ma il mio modo di pensare cambierà e questo discorso è uguale per me cioè gli incentivi sono la più grande forza del mondo spiegano perché le persone buone fanno cose cattive perché le persone intelligenti fanno cose stupide e il contrario perché le persone ordinarie fanno cose pazzesche mai sottostimare il potere degli incentivi non riuscirò mai a rendere abbastanza l'idea di questa cosa ma capire bene la finanza comportamentale vi permetterà di fare più soldi questo è un dato di fatto ora io ho finito vi lascio uno splendido weekend in descrizione trovate oltre all'articolo con tutti i link anche l'iscrizione alla buzz letter e al trading scocchierello per principianti il nostro percorso meraviglioso se non sbaglio fino ad oggi anche in sconto clamoroso fantastico pazzesco quindi link in descrizione oppure 80475300 il nostro numero verde vi auguro uno splendido meraviglioso weekend condividete questo video mettete mi piace e se siete arrivati fino a qui commenta con cancellino con l'h finale per supportare il canale e così perché ci si diverte ciao